Tambellini chiede che la città apra una riflessione seria che faccia sentire la sua voce. Del Ghingaro non perde occasione per sparare sul presidente Baccelli, per come ci ha trattati andare sotto Pisa, Prato o Pistoia per me fa lo stesso, salvo poi correggere il tiro e far presente come i nuovi ato sull'acqua siano stati disegnati con una geografia precisa. Il senatore Marcucci invita il governo a cambiare posizione perché passino gli accorpamenti ma che almeno si proceda per omogeneità territoriale. Il presidente Baccelli continua a lanciare i suoi strali, senza di noi i lavori di messa in sicurezza del Serchio non si faranno mai più, afferma. Tace il centro-destra e per una volta non se ne avverte la mancanza. Insomma, il taglio delle province invocato da tutti e promesso da tanti, ma poi non mantenuto a destra come a sinistra, almeno a Lucca ha suscitato l'ira della politica. Ma siccome siamo in Italia, le scappatoie si trovano sempre e ieri un emendamento proposto dal PD riapre i giochi sulla mappa degli accorpamenti. In pratica saranno le regioni a decidere in base anche ai voleri dei comuni, che potranno spostarsi da una provincia all'altra. Si riapre dunque l'ipotesi di una provincia di aria vasta costiera, formata da Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara. Rimane però un fatto. Il decreto parla chiaro, assumerà il ruolo di capoluogo il comune con maggior popolazione residente e anche in questo caso non saremmo noi, ma Livorno. Con buona pace di tutti.